Tutto facile per la Globo Sora che in gara 2 dei quarti di finale liquida la pratica ortona in tre set. Nel primo parziale i Sorani si sono imposti con il punteggio di 25-13, il secondo lo hanno vinto 25-15, il terzo set la Globo lo ha chiuso sul 25-17. La serie ora sul 2-0 perché la Globo Sora partiva con una gara di vantaggio in virtù del miglior piazzamento in regular season. Gara 3 si giocherà mercoledì proprio al Sorano. I ragazzi di Cocerici hanno avuto più fame di vittoria ed esprimendo un gioco più determinato, grazie alla concentrazione dei singoli che si è tradotta in un'ottima amalgama di squadra, portano a casa così una splendida vittoria che segna un gap importante per il proseguo della serie. La sfida individuale tra i due opposti più forti del campionato di a2 è stata vinta decisamente da Milushev, best scorer dell'incontro con 17 punti totali realizzati. Sora ha dominato soprattutto nei primi due parziali, nel primo set la Globo infatti si è portata ben presso sull'8-18 con Anzani e Siltala, grandi protagonisti. Il copione non è cambiato anche nel secondo parziale, in questa frazione sono stati in grande spolvero per la Globo i centrali Fortunato ed Anzani, che murando ed attaccando ogni palla in modo spettacolare hanno regalato 9 palle 7 ai loro compagni con un eloquente 15-24. Sora ha poi chiuso agevolmente i 25-15. Il terzo game è stato più equilibrato rispetto ai precedenti, giocato palla su palla. Il primo strappo però nel terzo set lo ha portato sempre la Globo per l'8-12, da qui non c'è stata più storia. Sora ha chiuso agevolmente per un 17-25 che vale lo 0-3 ma soprattutto il 2-0 della serie.